musica 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 aprite insieme apriamola apri vabbè davvero apri 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 nooo no davvero nooo nooo grazie ma il bea il fait auxbr� wow non Sono donna, sono donna! Eh, aspetta, non sei ancora donna! Anche noi ti dobbiamo far vedere un... Anche noi ti si deve far vedere una cosa! Nooo, è vero! È vero! Nooo, è vero! Nooo, è vero! Beeeello! Come l'hai fatto a questo? Questo è di oggi! Stamattina! Oh, che no! Non manca! Stamattina! Grazie! Grazie! Sono contento! Vabbè, prendiamo fuori! Aspetta! Tieni, voglio farlo vedere tu! No, il sesso, no, non si sa ancora! Ma che si scioglie! E c'è il capo! Ehi! 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 Che è il capo! 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 Allora... Io ti devo far vedere una cosa! La vuoi vedere? Che è il capo! Ah! Me lo immaginavo! Me lo immaginavo! Me lo immaginavo! Quando le hai detto me lo immaginavo! Me lo sentimo dentro! ho visto la tua faccia per l'altro Vin, do gioco tu pari se ti chichi interneti ciao guarda, cos'è? come vu? questo il panicino una peccina con il colpo quindi che cosa? è un bambino di chi è? mio dove sta il bambino? che c'è amore oh bravo stai un attimo ferma dobbiamo anche chiesti no, stai ferma un attimo che ti devo far vedere una cosa oh my god no, stai scherzando stai scherzando no, non sto scherzando no, non sto scherzando 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 cosa è successo? sto per dirlo alla mia amica Luana di Milano che tra l'altro è anche la mia manager che sono incinta e la cosa bella e assurda è che anche lei è incinta in questo momento quindi siamo entrambe incinte ed è una cosa bellissima e ti volevo far vedere questa cosa oh mio Dio 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 ti volevo fare la sorpresa oh mio Dio tu hai visto entrambi adesso o mio Dio ma chi è successo? no ok ok Grazie a tutti.